Oggi siamo a Caselle Landi, provincia di Lodi, vicinissimi a Piacenza. Abbiamo proprio il sole che ci bacia, per cui entriamo subito e vi spiego cosa vediamo oggi. Venite con me. Siamo in una ex esposizione di mobili di circa 1800 metri, che noi vendiamo come magazzino, per cui destinazione mista, prezzo super basico. Potete notare che come esposizione di mobili, ex esposizione di mobili, ovviamente è piena di paretine in cartongesso, quindi i spazi vanno immaginati, ma sono 1800 metri. Un bellissimo fronte vetrinato. Vi faccio vedere la lunghezza dall'altro lato. Stiamo entrando nella zona centrale. Ovviamente in questo caso la vedrete un po' buia, perché ci sono tutte le pareti controsoffitti nati per creare gli ambienti adatti ad esporre i mobili. Vedrete poi che uscendo nella parte sul retro, che è magazzino, si capirà meglio com'è l'immobile, le sue dimensioni e le sue caratteristiche. Venite. Eccoci qua, siamo usciti dalla parte espositiva. Questa è sostanzialmente la parte di magazzino ed è come l'immobile si presenta una volta pulito del tutto. Abbiamo quindi una parte vetrinata frontale e una parte finestrata sugli altri lati. L'immobile si presta a tanti usi, perché ha una destinazione mista. Anche se noi abbiamo scelto, di comune accordo con la proprietà, di venderlo come magazzino. Magazzino perché in questo momento riteniamo che l'aspetto commerciale vada valorizzato successivamente solo se è di interesse dell'acquirente. Ecco perché abbiamo la possibilità di fare diverse attività all'interno di questo immobile. Ci siamo spostati dalla zona notte bajur alla zona verde. Se vi è piaciuto questo video, se conoscete qualcuno che può essere interessato, condividete. E ricordate, Toscano per l'impresa, il gruppo che fa muovere le aziende. A presto!